Sontanata! Bastardo colpito! Forza! Ecco dei proiettili! Ciao! Charlie! Prendi! Munizioni! We have lost Objective Charlie. No! 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 Lancio una bomba a mano! Bomba a mano! Oh! We have taken objective butter. We have picked up the pigeon. We have taken objective Charlie. We have lost it. We have lost it.